Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con la Meteo di TV6. Nel corso di questo venerdì 10 giugno avremo ancora tempo perturbato al centro e al sud per effetto di una depressione che tenderà a svilupparsi sul mare adriatico. Depressione alimentata d'aria fresca di origine nord-atlantica. Le temperature pertanto scenderanno ulteriormente al meridione e lungo le regioni adriatiche solo al nord e in Sardegna avremo un miglioramento consistente del tempo. In Abruzzo giornata molto instabile e perturbata avremo cieli nuvolosi per quasi tutta la giornata quindi poco spazio al sole, tanto spazio a piogge e isolati forti temporali specie negli aree interne. Le piogge comunque interesseranno anche i tratti costieri. Temperature in ulteriore importante calo, le massime oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi, minime piuttosto fresche tra 11 e 18 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.